evito anche di vendere per spalle eh appunto anche quello ah ok la zona per andare a fare la riunione è qua davanti a noi eh qua davanti e invece non si può proprio uscire per cazzogiorno eh non lo so vabbè andiamo a fare stare lungo esce e vai in prima linea ah in prima linea guarda ma stava a chiedere ma stava a chiedere esce esce ok a post sì perché a me mi interesserebbe vedere se possiamo esplorare il pianeta insomma eh anche andare in giro ammazzare un po' di gente per aumentare il livello appunto perché poi quella è la cosa importante cioè ma anche in questa schermata del caricamento vedi uno che sembra tipo con la maschera antigas sì e non vedo l'ora di prendere l'outfit eh perché sembra quasi Resident Evil così eh sì com'è che si chiama Hank quello lì con la maschera antigas eh sembra lui poi penso che ogni set di armatura abbia il suo nome e quando poi le associ tutte quante insieme hanno dei poteri speciali tutti insieme come in tutti i giochi praticamente metti il set completo di un'armatura e abbiano dei poteri speciali tutti insieme a posto appena lo sblocco qualcosa lì ah a proposito dobbiamo andare a vedere l'albero lì dell'abilità eh dobbiamo vedere anche quando ci danno i cosi perché penso che ci diano una notifica che ci dà un punto di abilità per l'albero mi sembra che forse prima un punto ce l'ha dato ma non so ah porco dio che cazzo era quel coso allora c'era anche armato che ho visto ah perché c'è già le pistole inserite fucile a pompa eccolo qua porco dio ma che è ma credo che è più grosso di me no ancora niente salve che è armato posso usarlo? no lo stanno diparando quindi non posso usarlo ah si c'è un collezionabile eccolo qua 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 su qua su no ok ah però ci prende ci mette tanto a prendere la mira ma ora non posso lasciarti passare ah niente non possiamo cadere giù cioè dobbiamo per forza fare le scale ma 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 ok dovresti vedere la vostra torre è l'unica di spazio al vecchio impianto solare mi sono esplosi davanti è un casino là fuori è tutto tutto sopra già ho notato non preoccuparti mi sto prendendo ma io ti metto qua dietro mi piace il cadarmato fammi usare fammi usare il cadarmato un bel panzer del 2072 porca troia che si alza lui con tutto con tutto quello che c'è da fare fammelo dare ah magari è magia già praticamente te che c'hai praticamente puoi andare dietro le persone io invece che posso tirare praticamente tutto il fuoco che ho sai che è bello se posso usare il teletransport anche col cadarmato minchia mette il trasporto dietro col cadarmato siiii dai scendi sto conto va proprio usare ma fa tutto ma c'è nessuno mi trovo un modo di raggiungere ecco ripulisci le rotine ecco già davanti abbiamo l'argento minchia l'ho preso a fuoco io e quello esplode porco dio in mezzo a tutti siiii il mio potere mi piace un casino col video da l'affare potere dopo vedi lo schiede eh siiii figlia sentiamo che togliamo ma questo qua che cazzo fa a mannwood è morto infatti siiii siiii uu cazzo funghiamo questi li fanno malissimo adesso e beh l' livello è aumentato eh sii e sta aumentando ancora E che cazzo Dammi un po' di vita Questo potere qui della strada Devo farlo vedere da vicino E' stupendo vedere come muoiono i miei nemici Uh cazzo Beh è bello che i nemici quasi possono ascondere quanto vogliono Con me muoiono Che sta dietro al muro io li posso ammazzar tutti Eh anch'io la mia strada proprio non gli è più cancato di quei oggetti Eh si appunto Cioè Preso Madonna proprio bruciato Aspetta aspetta il tuo colombo a me Ah eh niente Oh ho sbloccato qualcosa Cos'è Figa In solito mitra E va molto oltre a quello che c'ho io Eh si Pia piano anche qua c'è qualcosa Un fucile a pompa penso A parte che cambio vediamo un po' se è potente Eh si Più potente del fucile a pompa che avevo preso io Perciò non prendo un cazzo Tanto comunque Troviamo oggetti migliori sul campo da battaglia Beh però te lo regalava Che fai dici di no Eh no ma perché poi io altri li ho comprati Ma io non ho comprato niente Io me li tengo O devo tenermi il più possibile E mo lo faccio anch'io Tanto comunque alla fine Qua le cose le trovi migliori sul campo da battaglia Fai prima Invece com'è sto mitra? Vediamo un po' Ah però Devo sparare a colpo singolo Perché dopo un tot si apre il mirino praticamente Eh beh come tutti i mitra Eh si Niente Dei là non c'è niente Ok E niente andiamo qua Tieni prima di tre sgombrare l'aria Eh Va dietro Che cazzo c'è Sento di rumori Oh c'è un Qua 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 Ci sono dei minerali mi sa Allora che cazzo Da dove ne hai tirato fuori quel tramone Ah eh che ne so Ma ho tirato fuori 90 di ferro Mi sa che così si possono modificare le armi e le armature Che cos'è questo? Ah tieni premuto per conquistare Abbiamo conquistato un pezzo di Avevo evitato perché pensavo che continuava la storia Ok una volta che conquisti c'è lo spostamento rapido E c'è C'è un coso qua Com'è che si chiama? C'è un tizio col punto esclamativo Ah eccolo E c'è un punto esclamativo dietro di noi Dietro Ok però aspetta Andiamo a dire che c'era un punto distrutto Adesso si può saltare Oh c'è un colizio Ah no qua c'è quello lì Raccogli sempre Che ha tirato giù Vedi se ce l'ho dato anche a te 28 di ferro Sono qua Vedi un po' se c'è il coso a terra Sì 72 di ferro Buono buono Andiamo a vedere un attimo di qui No di qua continuiamo Andiamo a vedere un attimo quella missione lì Dal tizio Ah è un tizio quello sopra Non lo so io ho detto tizio Ah si eccolo qua Eh si è fatto male È Audrey Storm Tensione Resto solo io E io ho detto tizio ma era così per dire No è una ragazza Cos'è successo qui? Però Che cazzo pensi sia successo? Siamo stati mutilati Avevano i bastardi in pugno ma Avevano un capitano Allora Che aspetto aveva questo capitano? Una cicatrice in volto Un sadico bastardo Ha costretto metà dei miei ad andare nell'anomalia Con estremo godimento Ah davvero? Beh credo di conoscerlo Cos'è di speciale un capitano? Un capitano Sì sai Gli stronzi con i poteri che finiscono a fare i capi Non una vera mutazione Anche se non c'è molta differenza Dove posso trovare? Dove si trova? Nel bunker in cima alla collina Quanto vorrei poterlo guardare negli occhi Mentre tu gliela farei pagare Accetta Credo che andrò a fargli visita In nome dei vecchi tempi Ok Ma com'è che vado di là? Ah no spero Penso se la porta qui Entra nell'area regolamento di conti Andiamo Cioè noi mentre stiamo facendo le missioni principali possiamo andare in giro così a cazzo Eh beh è buono Eccolo si Però a vederlo così Mi sa che non è un gioco dove si può andare in giro proprio a cazzeggiare Eh mi sa di no Mi sa che è un Non tanto lineare però Si si avvicina Tieni premuto per osservare Oh cazzo Guarda qua Guarda Come si è visto Oh si ho visto C'è un cecchino Che cazzo Cazzo Ma quello è morto Olè Ma quello Ma ecco Ma l'ho visto proprio Imparato Poi esplode Porca Porca madonna Che male quello lì Mi avvicino Mi avvicino Ok posso Ah ce n'è uno qui Dov'è? Eccolo là Mi ha fatto tantissimo Il potere Ah il tuo conmio mi ha fatto un casino No 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 Eccolo E' il cecchino da far fuori Perché quello che sta sul cazzo Mi sta puntando a me lo strozzo Ricordo quella voce Aspetta che c'ho il cecchino io Oh cazzo Quante c'è qui? Sì abbastanza dire Non puoi usare l'abilità Perché? Maglia Maglia Scatta Anche un bel evento d'azione Eh sì Dai Che cazzo è successo Non mi fa usare l'abilità Non mi fa più sparare Dai Non mi fa più sparare Ma perché non posso usare l'abilità? No Non posso più fare un cazzo Ah ci fa per morire male Ma a me non mi fa più usare niente Ma non capisco perché Non mi fa più usare l'abilità Non mi fa più sparare Non mi fa più un cazzo Perché mi sa che stai morendo eh Eh quello sì No magari c'è squadra Ah ora sì No no Mi sa che si era abbaccato Un pochettino all'inizio Ci muori che Se te lo dico Ecco Parca troia C'è qualcuno Un cecchino di merda Che spara lì Ma in terreno L'ho massato il cecchino Messo un bersaglio nell'aria Ah no è qui Eccolo qua Ok Dobbiamo aver ripulito tutto Ok Preso Ecco A posto Il livello del mondo 4 Te l'ho detto Io l'ho messo automatico Quindi qua Non chiede un cazzo Qua aumenta e via Eh vabbè Basta che comunque ci dia le cose buone Allora C'è qualcosa lì Ah vediamo qua sotto Cosa c'ho io No qua sotto Dove c'erano questi Non c'ho niente Qua ci sono delle munizioni Abilità Oh Guarda cosa c'è qua Raccogli È del metallo Quanto mi ha dato 33 di ferro Un codio Madonna che ho visto Dove sei dove sei Dove sei dove sei Qua Eh mica qua Ok Qua Dove che Dove erano Cosa lì di ferro Ah spero Qua Aspetta Ah ok Li vedo No No dobbiamo andare a quella porta Allora qua Prendo un po' di munizioni Qua c'è qualcosa Oh qua c'è la cassa Ti ha sganciato Fucile Non me ne faccio un cassa E questo Uniforme da scout Equipaggiano Dove hai come l'equipaggiano Boh Andiamo qua Qua ci sono dei Siamo sarebbe stata più dura Tornare il mondo Il capitano dovrebbe essere Qui da qualche parte Andiamo qua No aspetta Abilità di Deintroduzione Ecco Quando la parte di caricamento Di un nemico Si riempie Significa che Si sta concentrando Per usare un'abilità Per fermarlo Potrei colpirlo Con un'abilità Dotata di Deintroduzione Cioè la mia Quella con L1 R1 Praticamente Quando usi L'abilità che interrompono E mobilizzano i nemici D'elitto Questi svilupperanno L'esistenza Il controllo Folla Ciò Ciò È indicato Dall'icona Vabbè quella lì Che diventa blu Una volta sviluppata Una resistenza Il nemico Verrà avvolto Da un aura blu L'aura blu Indica che un nemico È temporaneamente Immune agli effetti Di interruzione E di immobilizzazione Mentre in questo stato Non potrà interrompere La sua abilità La barra intorno L'icona Indica la durata Di tale effetto Ecco Perché era troppo semplice Il gioco Se no Ah però Dobbiamo recuperare La chiave Ce l'ho un po' Senza lì Adesso Perché la vado a prendere io Ma la chiave Ah sì La chiave È il puntino blu E quella che diventa Già è un po' difficile Tutto qua Adesso Abbi la porta Ma C'è lo spoilerino Adesso Eh L'ho raccomandato prima Quando tu hai preso una giacca A me me l'ha data un'altra È diversa Oh Mi sembra una altra cosa Da scout Dai le pistole Sono cariche Sì Mi tiene una di me De carico Eh tieni Prenduto Allora Guarda come questo Come ci uccidono adesso Tutto quel fatto Delle abilità Quello L'altro Poi vi Guarda quanto è grande l'aria Oh cazzo Salve Beh sì You think You can fight Ah Give me Ma che mora In inglese Sì Ma che cazzo è Ma le cose in inglese Eh vabbè Pure l'ho Eh se riesco a sparare A quello lì Eccolo Boom Madonna Che cazzo Ok Eh ma questi Mi sa che continuano ad arrivare Poi gli scemi Oh Via 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 Oh cazzo Ma chi cazzo Inchia gli assaltatori Pure Ah uno è morto Uno c'è morto Atto Vicino Mancomene se l'ho accorto Oh cazzo Assaltatore Oh qui c'è una cazzo Perché c'è un modo di fuoco Che vai a uscire Eh mi sa che il suo potere Eh può essere Eh sì Mi sa che lui Che c'ha anche lui il fuoco Sta bruciando vivo Oh che cazzo è Racoglio oggetto Stivali Cazzo Questo fuoco di merda Eh te lo blocco Eh l'ho bloccato Oh cazzo Minchia Merda Merda Dai Porco Dio Eh vabbè Ecco Niente Tieni premuto Per gli animali Quadrato Cioè Arrivo 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 E lui No dai Mi si è ripristinato la vita Lui comunque Che tette sta rivenendo qua Porca troia Perchè si mette dietro di lui Oh c'è che il fuoco sta venendo proprio da te E gli hanno buttato la granata addosso Gli alleati suoi Eccolo c'è l'aria blu Oh no 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 vai è morto C'è morto c'è morto Aspetta aspetta non interagire con lui No no perché vieni qua vieni qua che c'è collezionabili Diamo un'occhiata in giro Qua c'è collezionabile qua Ho preso adesso Ok Di là più avanti c'è la cassa Non so se l'hai già presa Mi sa di no Ho visto che Cioè avrei schianciato Lui c'è le scale Ah eccolo qua Sì Il fucile Però vabbè L'accolgo e basta Ok niente E niente Mi sa che dobbiamo soltanto eliminarlo e basta Ma com'è il piafogo? Cioè te fai un potere e io faccio un altro mi sa O gli spara direttamente in testa Mi sa che è più buono perché gli spara Eh no è fatto il figo qui ma Hai fatto il figo? Ci siamo incontrati la prima volta E' fatto il figo E' fatto il figo E' fatto il figo E' fatto il figo E' fatto una morta Siamo noi Che combattiamo per la vita Ah però Intanto andava Andava a mangiare la pistola Tua idea Di che cosa ce l'ho fatto? Ah mi sono svegliato dieci minuti fa Mi basta sapere cosa hai fatto a me Eh? No Ecco Eh potete farmelo vedere però mentre lo calpestava Ti ha calpestato semplicemente la testa Oh ah no ok È un viaggio rapido Quel soldato vorrà la sua testa per sé Eh mi sa di no No La forza è aperta Quindi magari si può Eh no perché comunque ti fa fare il viaggio rapido mi sa Però aspetta dai proviamo Perché tanto mi torna indietro lo stesso Per fare cose Non è che magari salta fuori qualcuno Vabbè tanto tecnicamente dobbiamo fare anche la storia Adesso dobbiamo fare la missione principale Sperando che se torniamo indietro Qua mi dice C'è una B Una B giallo Eh sì Devo tornare dalla tizia che è stata di là Vediamo un attimo Un bottone da qua Sì esci e vai al bivio Bivi bivi Biv biv Cazzo di vestito che c'ho io Allora signore abbiamo Vi abbiamo vendicato tutti Il capitano è morto Oddio la testa È appagata Non quanto basta Sicura di stare bene Ti serve Un medico Altro Stai scherzando Ho un medico qui ti fa fuori più in fretta di una shrapnel Non ti preoccupare Io vivrò Lo devo combattere D'accordo Ti regalo il mio fucile No No zio Niente Hai fatto una buona cosa Ok Ah ah ci dà le cose però Ok Fucile d'assalto stavolta prenderei Fucile d'assalto 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 Dagna ai nemici Entra un raggio di 6 metri Fucile d'assalto C'è anche il fucile A bolpeccio Eh ho visto I colpi infliggono Rallentamento ai nemici 8 secondi Se no c'è Vergine degli scudi I colpi Geniano lo scudo Con quello del fucile Però io vado avanti Cambio il mitra Perché il mitra Mi fa schifo Senzamente Mi prende fucile d'assalto Standard Così Vuole La curiosità Di mettere a segno Un colpo E il colpo Tossico E' buono Fare le missioni Secondarie Comunque Cioè Te danno un botto Di roba Ok Questo fucile A pompa Che mi fa Niente Eh il fucile A pompa C'ha I colpi Infliggono Tossico Ai nemici Eh si Allora Ognuno di noi Ha le cose diverse Ah non abbiamo Le stesse arte No no Io ho preso Adesso ho preso Un fucile d'assalto Che me lo da Azzurrino Quindi penso Raro E mi fa Sì anche a me Sono tutti blu E mi fa Fuochi di artifici Colpi generano Un'esplosione Che infligge 27 di danni A nemici Entra un raggio Di 6 metri Eh no Invece a me Mi dice Proiettili debilitanti Il colpo Infliggono Debolezza Eh sarà Quasi Tento Per riprendere Il fucile a pompa Così quando faccio Il teletrasporto Gli spero Col pompazza Col pompazza Eh se perché Io a fucile a pompa Ce l'ho già Ma non ce l'ho potente Come dice Porca troia Quanto cazzo è potente Sto fucile È preciso Mira bene È buono sì Ah no Se ci parlo ancora Sì Non cambia niente No Devi far ripetere la missione Allora Apri il menu Il fucile a pompa Lo mettiamo A prossimo Invece Oh ora Mira anche Più preciso Questo C'è sempre 40 colpi Però vabbè Almeno è blu Ah è vero Facciamo un paio di stivali nuovi Equipaggio E questo Deve vi si vende Monta Ehm Bisogna mandare di qua Con l'ultimo Dalle armi le smonto dopo Eh sì Tanto comunque Ne incontreremo Altri di armi Allora Allora Ficazio Infatti guarda Infatti guarda sul vadaggio Allora qua c'è niente Di qua Di qua ci bisogna coprirsi Ci sono coperture E infatti io lo sapevo Porca troia Se fa malissimo Sto cucito adesso Allora Batte il tema Tutto la pompa Attenzione Guardate Piccolo Death Dove è andato Preso Ah c'è un altro Cecchino di merda Bellissimo Nooo Stupendo Quando gli fa L'effetto dell'acido È bellissimo Eh sì Immagino Niente Mi devo Spostare No io Non lo avevo spostato Da una parte Quanto dio Ma mi ha spostato All'altra Mi ha dovuto far esplodere Ma c'è la musica Questa No Ah io fa malissimo Ah dal fianco Oh io a mo' me ne sono accorto E che cazzo Ohle Posto Oh Vedici un fianco Preso Oh Quella ha sganciato qualcosa Eh Livello 5 10 di salute 13 poi Eh un punto abilità Ci ha dato Quindi penso che ogni 5 livelli Ci dia qualcosa Eh mi sa di sì Entiate qua mi dà dei guanti Qui c'è una cassa Vieni da me c'è una cassa Ok arrivo Ha dato un'arma Ah un altro mitra no Che palle Posso cambiare Al posto del Del fucile Andiamo Sì al posto del fucile Posso mettere il mitra E questa invece cos'è Ah 136.8 Io rimetto il mitra Perché con quel fucile a pompa Non è da me c'è Come un gran credo Eh sì C'è chi non serve Ma appena magari ne trovo uno migliore Vorrei io Di qua non si può scavalcare Ah stai portato a puntabilità Eh sì infatti mi dà anche a me il punto abilità Perché piglio un po' di munizioni Grazie Allora Tu vai c'è? Tutti l'armaiolo Aumenta i danni delle armi a colpore Eccola di classe Aumenta la tua salute massima del 10% E quello trono Aumenta i danni delle armi dell'otto Aumenta la forza annumale del 10% E la forza annumale del 10% Ah boh Eh sono indeciso per la salute Mi sa che è meglio la salute ora come ora Mi sono indeciso tra la salute e i danni più che altro Ma mi sa che è meglio la salute La salute massima e mi sarà il meglio Eh io infatti potenzo la salute prima Ecco io Fatto? Sblocca Ho sbloccato Ma cos'è che c'è qua sotto? Riduce il tempo di recupero dell'abilità del fuoco del 15% Vedi con la salute Aumenta il tuo assorbimento dell'abilità del 6% Poi ti dà altre salute massima del 10% Più avanti Aumenta la corazza del 20% Ustione sui nemici infligge il 20% di danni in più Madonna Cioè praticamente Gesù Cristo La tempesta sta montando 144% di vita no Prima andiamo di meno C'è di più C'è di meno forse 100% Forse 110% Ho visto non c'è più niente Guarda prendere La carta Ma allora andiamo avanti E là in fondo c'è una cassa appena apriamo Ah sì però dal disegno sembra la munizione Ma vediamo Ma cos'è che sta facendo? Cioè apre il cancello Ah pensavo che aprisse con Ah no le munizioni sono qua E poi di là ci sono Vediamo qua No non c'è niente Ah sì lì c'è una cassa E lì c'è una cassa Scaldacoldo malconcio E i guanti da soldato semplice a 97 Bono lì Ma invece a me mi sa che mi ha dato un altro fucile accecchino Non avevo dato due indumenti mi ha dato Bra Dio Mi ha dato un metri Ah no il metriatore l'ho accattato prima da un carave Guardate eh Fucile Bar standard Eh ma non c'è un tasto per Per cambiare Mentre meno Che cazzo ho fatto Il triangolo Il triangolo Cambiare No lo so ma Mentre miro Il semplice fatto Di spalla Da spalla destra Spalla sinistra Ma hai visto? Sì 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 Mentre miro Ah sì l3 Sì Ma hai visto quando Quando miro e tiri il colpo corpo a corpo Cioè fa un potere a parte È più potente È più potente ma non ha il mirino Oh Devo rimettere l'altro uccicchino Perché qua è senza mirino Eh ma qua è pieno di È pieno di coperture Ti aspetto perché Sono qua Però è pieno di coperture Allora Posso andare avanti E infatti Porco dio Chi è quello? Non l'ho rotto Capitano dell'avanguardia Minchia livello 6 Qualcuno Io ho tirato tutto Io ho tirato a questo Pure io No 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 Quando fa quelle stronzate lì Perché poi si mette a caricare No 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 Dai È un casino quei puttanti Oh c'è che c'era di sul fianco Mi ha notato Oh che cazzo è diventato? Olteschio tutto è diventato quello È la mia abilità quella lì della spada Morto morto è andato è andato Ma quanti gente ha tirato giù questo? Eh un arm Due armi Un certo Un'altra Uniforme grezza infatti Faccio la cazzata Ah vuoi andare lì? Ah bene Ce ne sta un altro però qua Bacco dio E ho toccato Io qua ne ho manco di tre Proprio pieno Sto ammazzando Che è successo? Porco dio Al di geniari Eh me ne sono arrivati un po' alle spalle È notato E con che buttati il fuoco addosso No ma non ci arriva fino lì Il mio fuoco E uno l'ho preso Ole Bam Mamma E prendo energia ogni volta che Oh cotillo l'assaltatore è qui Mia Tra la boppa Oh cazzo Ma Un po' Un po' Un po' Meglio va Sto cazzo di cosa Oh Bla Ma che ha colto un ingegnere Sto cazzo Madonna Che ha pagato il colino Ahahahah Questi partono proprio di testa Partono questi ogni volta E con che ingegnere è successo? E niente È preso È preso il cecchino di pit stop Dov'è che sono? Eh Il vito qua che stanno arrivando ma Dai Ma qua X ma Mi da giro Sul fianco Ecco ecco l'ho visto uno Ma proprio mi sono a truccarsi quello che stava sopra No Preso Ma per forza Stanno sopra Oh gli stronzi Olè Una è morta L'altro L'altro C'ha pochissima vita Sì Si Tira fuori la capocetta Un attimino Eccolo lì Nice Bam Esploso Oh capadono In grande questo modo Porca droia Che esplosione ha fatto C'è È bello quando li piglio Che c'hanno pochissimi avanti Sente E poi esplodono Porca droia Allora Lì c'è C'è la sua testa che è roto Porca droia Quante cose Cos'è Oh Fucile Rara fucile d'assalto Vespero 185 185 Di dando Buono Già ho cambiato Un altro fucile Che cazzo Di colpi ha La madonna Cristo Fanno totalmente Altri domori Sti cazzo Di fucili Allora Questi Tutti Ehm Ehm Qua Sti cazzo Di fuoco È maggiore Ma C'è la piccola C'è nient'altro Da prendere qua No Un po' Qua c'è un corpo Non so se è un corpo alleato Perché nemico non penso Di solito Quegli nemici esplodono Controllo per bene No ma non penso che Ci sia qualcos'altro da prendere No non c'è più niente Quello che potevamo ripulire L'abbiamo ripulito Sì La missione a damasco Attenzione La stas'incredito A me è poi Da quella folla A me è poi A me è poi Parlando di quelle missioni Mi sembrava di combattere Per qualcosa Questo buco del cazzo Qua c'è Rifornimento Allora per cosa combatti Tu Cerco solo di sopravvivere Oh c'è Uno di quelli Da fata fa Ce la facciamo appena Allora ho scelto il giorno giusto Ok Ancora abbiamo Stato attenti Che qua c'è pieno di gente Ci sono tonnellate di gente Bocca madonna Eh niente È già morto Cioè tutto che Oh che cazzo Che cazzo è uscito questo C'è preso un colpo di quelli Minchia Diventano teschi praticamente Eh sì Ti ho detto Quello è La mia abilità Qua lì Dalla spada Ah Aveva buttato la granata Invece Sottosicuro Quando muoiono Lasciano la granata Eccoli Altri Sono quelli Con il mancino Eh sì Fa tipo martirio Praticamente Oh cazzo E questi E dove cazzo escono Bocco Dio Chi cazzo c'ha il fucile a pompa Eccolo Aria Sono già arrivando in tante Vabbè tanto più che c'hanno un colpo proprio Eccolo Mamma Ho visto il mantello che partiva Guarda Finiti? Io di sì Ma che belli tutto il fuoco a terra Mi fa danno? No Sì, sì mi fa danno Vabbè basta che si tecci il cerchio E poi si spegne automaticamente il fuocarello Minchia Che cazzo è successo qua? Sono solo gorpi Ci siamo svegliati durante una guerra Eh già Una maledetta guerra A guerra Guerra, guerra, guerra sia Mi sa di no No Perché di qua non mi ci fa andare Di qua Eh Minicchio Eccoli Buon caso E' sempre lui Taglia gole Sempre Uh ecco lo taglia gole Un altro taglia gole Qualcuno ha sganciato qualcosa Raccoglio oggetto Ah abbiamo recuperato una chiave Ma c'è una chiave Qui c'è qualcosa Intanto dove andass Aspetta Jakub Vedo un sacco di ebola No niente Oh una cassa E poi ci sono altri materiali Ah si Allora Che cos'è questo Eh non me lo dico Oh niente Un coso Qua Oh i pantaloni quelli più forti Si calzoni logori Ok presi Oh io Me l'ha dato un elmo Oh Tu è che sono i materiali Che gli dicevi tu Eh già Qua 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 Ah eccoli Presi Ok Oh altri materiali A vedere tutti questi corpi Salponizzati Mi ricordo a metallica Mmm Devi andare nell'impianto petrolifero Eh si Mi mancano soltanto i polmoni Che uscivano Altri materiali Eh già Com'è che era prima Ma da dove cazzo è uscito sto coso Dalla schiena Si sa da dove cazzo lo tira fuori sto trapano Vediamo un po' se c'è qualcosa Perché l'aria è troppo grossa Per impossibile che non ci sia niente Ah una cassa Infatti Mi ha dato un materiale A me ha dato un Di rottami E a me mi ha dato Guanti usurati Livello 6 Ma armatura 73 Ed è meno di quello E ho ottenuto uno schema di personalizzazione Ah si Mi ha dato Quelli là Gli schemi del cazzo Allora Qua c'è un cazzo Qua ci sono sempre Il fatto Delle munizioni Qua c'è gente morta In mutande Poi comincio a avere troppe armi Deve ho smantellato Comincio a smantellare qualcosa Comincio a avere troppe armi Oh schiena Sì anch'io Quante armi ho io adesso Poi che vedo Un pochettino Non tantissime Dai Vabbè Proviamo ad andare ancora un po' avanti Magari vediamo un po' di neve Sì Sa chi vedo l'obiettivo che si muove Ma si muove tantissimo Cosa vedi all'interno? Eeeh Tanta roba Eh Dami tempo di entrare cazzo Vuol dire che ti stai avvicinando Non te l'ho detto? Questa mutazione è folgorante È folgorante Perché stupisci o perché folgora? Ti folgora Sì Ti folgora Ascolta so che te la sei cavata molto bene Signora Ma Questo petto è un po' di neve Su un po' di neve è su tutt'altro livello Anch'io lo sono Ormai Cassa Un altro cecchino Un pantaloni macchiati che non mi serve un cazzo Un altro cecchino E mi sa che vedrai che ti piacciono i cecchini quindi te li da dietro Dovevo cominciare a smantellare la roba Cominciare che sei a livello 5 Ah beh anche io sono a livello 5 Sembro Vestito così sembra una guardia svizzera Un po' con il cappello così Un po' con il cappello così Oh cazzo Affronta una mutazione presso l'impianto solare Alla faccia della riunione ma che è Meno male che si può fare si può smantellare la roba selezione Ma com'è sto mito? Non guarda gli altri Incarica anche abbastanza veloce Io forse in te cominciare a smantellare un po' di roba Ma com'è che si smantella la roba poi alla fine? Vabbè basta che vai sull'oggetto Fai i vendi E poi lui ti dice di smantellare Se tu selezioni più oggetti Si Ti fa fare smantellamento di gruppo E infatti mi sa che faccio prima Seleziono più oggetti e faccio smantellamento Si perché io cominciavo ad avere fin troppa roba Smonto oggetti selezionati Vediamo ma mi fa fare anche gli altri Quindi Ah no la pistola si apposta Ok smonta Ok vediamo un attimo il fatto del berretto qua Non questo Smantella O qualcos'altro Uno Due Tira giù E tre Abbiamo i pantaloni Ok I guanti Li tolgo via E faccio un cazzo Gli stivali non ne ho Gli stivali ne ho Ok smontiamo un po' di questi E smonta Ok Abbosto lì Minchia 458 di armatura Però mocio Da che prima ne avevo 200 Mocio 258 in più Io sono a 333 Orca troia Ma me ha dato veramente poca roba di armatura Mi dà solo vestiti Mi dà Ma che cazzo Ma quasi sempre solo armi Che cazzo è questo? Ma hai cristallizzato? E non è che diventa la bow di Resident Evil Questo Si trasforma Esce dal cuscio Oh Guarda chi c'è Ma fa di fornimento Si sa mai Eeeh Ah Accedi alla torre Qua è un'altra boss fight Mi sa Si E' troppo grande come spazio Eeeh Vabbè Benvenuti in Infamous Praticamente Ma che è Che è slat questo? Si Sono più magneto in questo momento Eeeh Appunto Anche quello è vero Mamma mia Mamma mia Che cazzo sei Oh Bella l'arma Che cazzo di arma è quella? Ecco E siamo noi contro di lui Ecco Aia No Anche lui si teletrasporta Bene Ah Ho tirato la sua attenzione a me Cazzo Via 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 Che cazzo Che fai? No 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 Che cazzo è sta roba? Aia Proprio fa male Eeeh Ci ha ucciso Ecco Arrivo Dove sei? Qua Porca puttana che bo Eeeh ma sono davanti a lui Mina elettrica Cazzo 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 Ok dobbiamo stare attento a che ha quelle due palline blu che vanno in giro Carco elettrico Cazzo cazzo Eeeh Ah ma la cusca non è stata una maniera Eeeh infatti Oh mi son preso un po' di energia Si ho capito mi ha preso un po' di energia ma questo fa malissimo comunque Pulmine Eh non capisco i pattern Ho cercato di bloccarlo perché ti ho preso pure io E' botta Dovevi aspettartelo Ancora sti cosi a terra però Cazzo cazzo Dove sei? Eh sei dietro di noi praticamente Ah ma mi posso rianimare da solo? Penso di si prova a vedere Si 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 Fuga fuga fuggino fuggone fuggasmo Mi sono rianimato da solo No si è Porco dio dietro di me è mo No No è davanti a me Atto Si Che cazzo Ci sarà un modo per Che cazzo Ah municione Eh cazzo sto lanciando il mondo io dietro di lui però Eh vabbè ma c'hai l'arma porco dio quello che Tempesta di fulmini Cazzo 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 Mi devo continuare a guardare in giro praticamente Che cazzo Eh che cazzo Questo c'ha anche le mine qui però Eh che cazzo Ma la quanta vita che c'ha quello però Ma devi agganciarlo mattacci tua Oh cazzo la mina ha buttato Ma queste mine io non le posso spaccare C'è di no Mi sa che per forza per spaccare Dev'andogli per forza sopra Ho preso? Ho preso si Ah io l'ho mobilizzato Moro d'acciaio Cioè Oh cazzo Muro d'acciaio No moro Ah beh gli posso sparare attraverso però Fulmini ma che cazzo è Battaglia 2 Porco dio ma non muore più Ma non è che ci sono tanti colpi Che no Cazzo Mina energia Cazzo Naltra Ah le mette dove ci mettiamo noi di solito Nel numero Oh cio Assalto metallico Non so cosa significa Lo ho rallentato Ok gli manca un topo di vita Cioè Che cazzo l'ho preso ma non 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 Muro d'acciaio un'altra volta Boom Verso di me Abbiamo energia Che cazzo Mi fai malissimo Mina elettrica Ah è ancora su di me Ah è fissato eh Eh ho notato Il muro elettrico Assalto metallico Mettalo là Dai che è quasi andato Eh è rotato Tempesta di Fulmini Vai 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 È andato È andato Ha sganciato pure l'arma Ed ecco un eroe Ok E così Outrider hai ucciso la tua prima persona Noi mutazioni non moriamo così facilmente Set Set Goen Vieni Dobbiamo parlare Sì ma chi cazzo è Darth Vader Hanno chiesto il tuo aiuto Per combattere la mutazione Perché non l'hai fatto Quella patetica mostruosità era solo una distrazione C'è della gente che muore per colpa sua Senza quella linea di rifornimento Moriranno tutti Quelle deboli creature Si ammazzano a vicenda per degli avanzi Stai sprecando i tuoi doni Dando loro aiuto Cercando di vincere questa inutile guerra senza fine L'avrai capito ormai Tu non sei più come loro E quindi Dovrai mettermi a giocare a fare Dio come fai tu Io Non sto giocando Ma tu Sai qualcosa di più Mutazione e Outrider L'ultimo Outrider Fa ciò per cui ti hanno mandato Va Oltre la frontiera Questa gente ha bisogno di divinità Solo chi è come te potrà guidarmi verso il futuro Lo chiamano Moloch Io combatto un'altra guerra Si è un orco Non ho a che fare con questo squallore La mia guerra è contro il peggiore di noi Una mutazione potente Ci distruggerà tutti A meno che io non riesca a ucciderlo Ma questa Non è la tua guerra Tu diventerai un pastore Dovrai aiutarli A sfuggire al massacro Outrider Molto da assicurare Che non lo far Non ci credo La linea di rifornimento È sgombra Non ci credo Outrider Hai fatto ciò che cento uomini Non sono che si attraverano Oh casca davanti a noi No Non ringraziarmi Devi ancora vincere la guerra Non credo che qualcuno Stia vincendo questa maledetta guerra Ma c'è qualcosa La roba buona Oh codio Pantaloni da spirito E i guanti da scout a 101 Belli Benvenuto su Dead Space Non lo faremo Ok Posso Adesso voglio vedere Non ho rifornimenti C'è qualcos'altro A prendere No Di qua Non c'è niente Di lì ci sono dei rifornimenti Mi che avevo finito Quasi tutti i proiettili Avevo finito Incafra un po' andavamo a livello 6 Noi ora abbiamo un posto di più oggetto Guarda Oh no Guarda Mi ho avuto Il miglioratore Però c'è Più strano Pericattura Pericattura I no, non c'è più niente da prendere praticamente ci sono altri rifornimenti là in fondo non dobbiamo tornare indietro è una mappa mappa